Ma neanche lui... Eccoci, stiamo in diretta, stiamo in diretta, non ci avvisano, non ci avvisano, stavo dicendo una cosa per fortuna, ripetibile. No, no, ripetiamo allora, stavo dicendo che io ho avuto le solute discussioni sul noto... Gli improperi, come si dice? Sì, perché mi sono permesso di dire che quando sento dire che sono 36 anni che sopportiamo i Matarrese, mi sembra, come dire, una cosa non vera, non giusta, perché dico almeno di questi 36, 10, 12, come dire, hanno fatto benino, non vogliamo dire bene, benino, quindi non sono 36 anni che li sopportiamo, che significa che dal primo giorno che hanno messo piede nella società erano già, come dire, di troppo, erano mal visti dalla gente, invece non è stato così. Solo per il fatto di aver corretto una persona dicendo questa cosa, a lei di nuovo insulti, perché ah, tu sei, io non sono niente, io penso le cose, quello che penso, provo a dirlo nella maniera più onesta possibile, quindi questa cosa qui, anche questa... Alimentato una certa discussione sui social network. Perché sembra che se io, se uno dice una cosa diversa dal coro, è schierato, ha ambizione di salire sul carro, di chi? C'è un amico lì, è pronto? Pronto Enzo, ti saluto, ciao, sono Michele, un saluto anche al bravissimo Guartella. Grazie, buongiorno. Senti, io ho una preoccupazione, visto che il mercato comunque sta andando avanti e che comunque stiamo vendendo qualcosa, non vorrei che alla fine il signor Montemurro purtroppo con 10 milioni di euro si ritrovi una scatola vuota. Ma è possibile che non si... Io ostento a credere che non si sia parlato di questo, io credo che gli accordi ci siano, se no veramente di cosa parliamo, eh? Cioè, io credo che si siano visti tante volte, anche io mi sono posto questo quesito, ma poi mi dico, ma si sono visti. Siccome vendere o non vendere un giocatore è fondamentale, ti cambia completamente l'assetto di una società, è chiaro che credo, insomma, credo che un accordo, almeno l'ultima volta che si sono visti, l'abbiano raggiunto. Spero che... Ciao Enzo, ciao, grazie. Ciao, 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 bene, ovviamente sposterebbe l'ago della bilancia in maniera clamorosa. Ma clamorosa, è chiaro che se tu hai 5 o 6 giocatori in meno di quelli tra l'altro appetibili e quindi che possono essere, che possono portare da una parte moneta, quindi possono far incassare, significa che sono anche ambiti da altre squadre, se tu ce l'hai o non ce l'hai cambia tutto, non penso che non abbiano parlato di queste cose, di eventuali penalizzazioni, credo che abbiano parlato di tutto, oltre a tutti gli aspetti tecnici finanziari, credo che abbiano parlato anche di queste cose, perché se no, è come se io mi compro una casa completamente arredata e poi la pago per quella e poi la trovo completamente vuota. O vuota con delle crepe, leggi penalizzazioni, insomma. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, Daniele, amici sempre in negro. Ciao, ciao Daniele, ciao. Buonasera. Niente, penso, innanzitutto con la ragazza di prima, quella si chiama Miss Federation Cup, non con Federation, perché ci sono due filuri che sono bellissimi. Vabbè, vabbè. Comunque tutto questo, qui siamo pronti, eccola, mamma mia che bella. Niente, qui Enzo siamo pronti. Ti abbiamo lasciato senza parole, non parli più del Bari praticamente. Ma che è solo a me, penso, un po' a tu. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, Enzo, stavo dicendo, qui siamo tutti quanti pronti per fare la festa in città, non si parla d'altro, qui riesce a fare la pista e si dice dov'è che dobbiamo andare a festeggiare, sabato, eccetera. Cioè, anziché andare a ballare qua, tutta la città aspetta la festa come una serie A. A mio avviso più lo dite e più potreste alimentare in Mattarese il sentimento di farvela rimandare. Ma tu immagina, no, perché dopo qua dobbiamo immaginare se non succede quello che tutti ci aspettiamo. Allora è lì che si devono preoccupare in Mattarese. Vabbè, vabbè, non c'è questi messaggi, dobbiamo preoccupare così, lasciamo perdere. Qua siamo sempre nell'ambito di qualcosa che non ha nulla a che fare con, come dire, i messaggi in codice. Cioè, cerchiamo di essere calmi, tranquilli, sereni. Certo, tutto lascia pensare che la trattativa vada a buon fine, perché comunque c'è un'esigenza assoluta di vendere da parte di chi, evidentemente, è andato in sofferenza con la gestione del Bari. Non dimentichiamo che parliamo di 25 milioni di euro di debiti con il fisco. Con il fisco. Con i 25 milioni di euro di debiti con il fisco. Sono una montagna. È una montagna. È una montagna di soldi. A denuale del vero non è solo il Bari che ha questo genere di debito. E questo non cambia nulla su quelle che sono le aspettative della tifoseria. Perché purtroppo a me ci sono moltissime altre squadre che hanno le stesse sofferenze, ma già da tanto tempo. Io ho letto un dato l'altra volta così, spulciando. Nel 93 il debito dell'intero movimento calcio era di 180 milioni di euro. Che è una... Nel 93. Adesso siamo a 1.800. Ma ti sembra normale questo? No, non mi sembra normale. Cioè scusate, ma perché il... Non mi riferisco alla questione del Bari. Mi fa piacere che tu avevi detto di una questione collettiva del calcio italiano. Collettiva del calcio italiano. Cioè il povero Cristo, al povero Cristo chiedono, mi dai la ricevuta perché portate in trattazione le aspirine, le aspirine, le sofferenze, la fanno chiudere. Hai capito? Ma dov'è la giustizia in Italia? Ma dov'è la giustizia? Questo è nei controsensi del calcio perché... Queste cose dovrebbero fare incazzare la gente, eh? Sì. Obiettivamente. Ma fino adesso un mare l'abbiamo visto, insomma adesso non vogliamo buttarla sul sociale. E non mi riferisco al caso precedente del Bari, ma è proprio una questione collettiva per cui alla fine, a mio avviso, anche la società più sana di questo mondo diceva se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io. Ma ti ricordi che il Bologna parlava di doping finanziario? Quando ci fu la Lazio di Bocsi, c'è compagnia bella che vinse il campionato, il presidente, allora il presidente del Gazzola credo che fosse, no? Forse sì. Insomma denunciò in Lega che c'era il doping farmacologico. O Menarino, Gazzola, sì. E c'era il doping finanziario. Dette io mi posso permettere, tra virgolette, signori, ville, qualche altro. E la Lazio di buoncidio, e la Lazio di Cragnotte, non pagando nessuna ritenuta, si pensava che aveva Mancini, Bocsi, Cinetti. E non si interviene in questi casi, ma fammi capire. Ma lì la colpa è di che? Dei vertici del calcio, non è mica delle società. Appunto. Il discorso è quello. E quindi lui, ad oggi, che ha avuto qualche piccola rivincita morale, aveva ragione. Perché dice io col mio Bologna posso competere, essendo perfettamente in ordine con i conti, non posso mai competere con la Lazio che non paga una lira di ritenuta. La parola è indignarci di queste cose. Dobbiamo indignarci, dobbiamo fare proteste vere. Come quelle che hanno fatto Gigliari. A tutto questo ci aggiungi, calcio scommese. A proposito di questo, oggi la protesta, come dire, si sono costituiti di parte civile i tifosi del Bari, quelli di Maglia Bianco-Rossa, ha comunicato il legale Luca Maggi perché è giusto che anche loro ambiscano, i tifosi ambiscano il risarcimento d'anni perché oggi è cominciato il processo per la giustizia ordinaria, ex presidente dell'Ecce Semeraro, poi c'era Masiello e compagnia bella. Mi auguro che ci sia, abbiano tutti conservati i taglianti abbonamenti perché spesso i tifosi conservano come, giustamente, come fetici gli abbonamenti, alcuni vedono anche i biglietti, presentano un bel conto con il risarcimento morale, se poi magari vogliono fare una cosa in grado, li daranno in beneficenza, ma a questi bisogna togliere i soldi, punto. Mani al portafogli.